348 nuovi casi nella nostra regione, quasi l'11% dei 3.204 test processati nelle ultime 24 ore. 149 dei nuovi casi però si riferiscono a Focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 514. Si tratta di persone tra i 66 e i 93 anni, 3 della provincia dell'Aquila, 2 di quella di Chieti, 1 di quella di Pescara e 1 di quella di Teramo, mentre 3 provengono da fuori regione. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo i guariti dei ceduti, sono 4.363 più 278 rispetto a ieri. 228 pazienti più 20 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 16 invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 3.285 più 133 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. I contagi scoperti nelle ultime 24 ore riguardano persone d'età compresa tra 3 mesi e 96 anni, 42 sono della provincia di Pescara, 66 di quella di Chieti, 74 di quella di Teramo e 190 di quella dell'Aquila. Ed è proprio la situazione nell'Aquilano, a destare maggiori preoccupazioni, torna l'incubo nelle residenze per anziani, con il focolaio scoppiato al Donorione di Avezzano, dove nelle ultime due settimane sono morte 15 persone, 3 nelle ultime 24 ore. Il sindaco Gianni Di Pangrazio ha commissariato la struttura e la ASL ha deciso che solo i medici dell'ospedale potranno offrire la consulenza medica. Intanto alcuni familiari delle vittime annunciano denunce in procura, mentre un'informativa sarebbe stata consegnata dai carabinieri del NAS di Pescara alla procura di Avezzano, ma il direttore della RSA, Vittorio Quaranta, nega l'arrivo dei carabinieri nella struttura. Non abbiamo mai avuto questa visita. Ce l'aspettiamo magari che forse dopo l'emergenza verranno per qualche controllo, qualche cosa. Penso siano normali procedure, non me ne intendo. Però fino adesso non abbiamo avuto nessuna visita di questo genere. È un lungo cammino ancora che dobbiamo fare. L'importante è arrivare alla meta. Come mi piace dire sempre in questi giorni, abbiamo vissuto il venerdì santo. Ora stiamo vivendo il sabato santo, che è il tempo dell'attesa. Arriverà sta domenica di Pasqua. Intanto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, chiede al governo nazionale semplificazioni per i lavori negli ospedali, così che con l'aumento dei contagi si riescano a reperire più facilmente i posti letto nei nosocomi.